we ragazzi allora ve lo ricordate il test di teoria è qui che era già bello difficilotto niente al confronto test di armonia 10 test 5 scritti e 5 ti ascolto dai tranquilli prendete il video lo fate andare via dritto così non vale fermare non è che potete stare lì fermate non si può tranquilli via alla fine vi dico come ottenere le risposte vai grazie a tutti 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 grazie a tutti